Salve ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Quello di oggi non sarà un video come al solito, sarà sicuramente più corto e un po' più particolare. Non andò neanche a offrire un'analisi approfondita, ma voglio parlare di un argomento di un autore che mi ha colpito particolarmente in questo periodo e che conosco da tempo, sebbene io non abbia letto tutto di lui. E che volevo condividere con voi perché penso possa offrirvi una lettura interessante nel caso non lo stiate ancora seguendo fino a questo momento. Come avrete capito dal titolo, oggi parliamo di Leo Ortolani, l'autore di Ratman, diventato particolarmente famoso grazie a questa fortunata serie fumettistica in cui il protagonista è questo inetto che cerca di fare supereroe e che quindi si ritrova costantemente a lottare in una serie di avventure contro il suo essere incompetente nel ruolo di supereroe, fondamentalmente perché non ha poteri e perché è stupido fondamentalmente, sebbene ovviamente l'opera sia più profonda e si sia evoluta nel corso del tempo. Purtroppo io non ho letto Ratman, avevo iniziato a leggere la serie, credo aver letto tipo i primi 20 numeri, ma non ho avuto la possibilità ancora di recuperarla. Ratman è una di quelle serie che vorrei avere in cartacea, l'ho letto finora perché mi prestavano i fumetti, vorrei averla in un prossimo futuro e raggiungere la mia libreria in modo da farmi una lettura completa e questo è anche uno dei motivi per cui sono sempre stato un pochino riluttante a fare questo video. Era già un po' di tempo che volevo parlare di Ortolani e in particolare parlare dell'opera su cui ci concentreremo oggi, però il discorso era come faccio ad analizzare un'opera, come faccio ad analizzare un autore senza conoscere la sua opera, Magna, posso effettivamente permettermi di parlare di Ortolani pensando di poter comprendere la motivazione e il messaggio che vuole celare dietro la sua opera senza conoscerlo al pieno? Per questo motivo voglio mettere questa come premessa, quello che voglio fare come sono solito fare in realtà è offrire il mio punto di vista, offrire quello che mi ha lasciato la lettura di una particolare opera di un particolare autore e credo che talvolta non conoscere l'autore e non conoscere la sua opera Magna ci permette di vedere molto di più di noi stessi all'interno dell'opera che leggiamo perché invece di andare a vedere il dettaglio, la tecnica che ha l'autore nella scrittura e nel disegno vediamo quello che proiettiamo noi all'interno dell'opera. Sì, mi sto sbrodolando un pochino addosso con le parole, ma andiamo per gradi. Gli Ortolani nel corso degli anni ho letto relativamente poco so che principalmente ha appunto Ratman che ha 20.000 pubblicazioni quindi ho letto relativamente poco di questo seguivo il suo blog dove pubblicava le sue recensioni di film che andava a vedere mi sembra di ricordare di averne lette alcune di quelle che erano particolarmente spassose che era la fruizione del film dal punto di vista di una persona in sala e Ortolani è sempre stato bravo a fare una narrazione che sembra normale al cui interno cala un personaggio che si comporta in modo più o meno irrazionale o che comunque vuole esacerbare, esagerare quello che pensiamo tutti noi quando guardiamo un film, fondamentalmente. Ho letto diverse sue parodie, tipo la parodia del Signore degli Anelli e la parodia di 300, ovvero con 289 più 1 che per me è la più bella in assoluto parere ovviamente personale, ne parleremo tra poco e nell'ultimo tempo ho seguito assidualmente Ortolani su Facebook e su Instagram per la sua serie sulla quarantena. Arriveremo a parlare di questo, ma prima voglio parlare velocemente di 289 più 1 lo avete visto nella mia libreria, negli scorsi video, nelle live e non ne ho mai parlato fondamentalmente se non per dire che è molto bello e che lo consiglio, ma visto che oggi parliamo di Ortolani e non credo che almeno nel prossimo futuro ne parlerò ulteriormente di questo autore perché vorrei parlarne una volta che avrò recuperato tutto l'Atman ma con le difficoltà che ci sono adesso nel recuperare delle serie fumettistiche o altro la vedo un po' difficile per il momento quindi ne parlerò quando potrò farlo voglio approfittare dell'occasione per parlare di 289 più 1 perché parlare di quell'opera lì mi permette anche di parlare della serie sulla quarantena che è l'argomento fondamentale di oggi per chi non avesse letto niente di Ortolani e per questo non può capire il suo stile la lettura di 289 più 1 secondo me ha un ottimo inizio mettiamola in questo modo perché naturalmente è dissociata da tutte le altre sono parodie, le parodie sono one shot opere autoconclusive e ne ho lette diverse di queste e il 289 più 1 mi ha colpito particolarmente perché per tutto l'albo, per tutto il fumetto Ortolani riesce a farti sorridere a mantenere un sorriso genuino senza forzare delle battute che possono essere grete come è possibile trovare o che possono essere recepite solamente dal pubblico del web per esempio o comunque essere settoriali in quel senso sono delle battute che possono far sorridere chiunque apprezzi l'umorismo di Ortolani ovviamente per poi arrivare alla fine dell'albo in cui Ortolani prende una serie di quelle pieghevoli della WWE e ti massacra la schiena tanto che avrai bisogno di un chiropratico al più presto c'è un motivo ragazzi se infatti mi lamento spesso del mal di schiena è perché il 289 più 1 che rileggo spesso con grande gioia mi devasta l'animo ogni volta che lo leggo e l'ho riletto anche poco fa infatti quando ho iniziato il video avevo ancora gli occhi lucidi perché sono pronto ad ammetterlo il 289 più 1 ogni volta che lo leggo mi fa piangere mi fa veramente lacrimare non mi fa piangere a singhiozzi quella è una cosa che si tiene i film a Cico ok? o Coco sono due cose che mi fanno piangere a singhiozzi ma Ortolani non ha bisogno di fare questo e non ha la necessità e la volontà di fare questo Ortolani vuole farti sorridere per poi farti arrivare quel magone finale che funziona benissimo la storia del 289 più 1 è presto detta ricalcando tra l'altro lo stile dell'opera originale che si presta benissimo come contraposizione rispetto a come viene disegnato il protagonista e lo stesso stile di Ratman la storia girata a questo piccolo spartano che si unisce alla guardia di Leonida nella battaglia delle Termopili contro i persiani penso che conosciate tutti la storia di Terracento anche per via dei film se non per il fumetto in generale e ovviamente è inadatto a partecipare lì è inadatto perché è pavido è inadatto perché non ha la prestanza fisica per poterlo fare e perché è stupido fondamentalmente sono le tre caratteristiche che spesso si ritrovano nei personaggi di Ortolani anche se l'essere pavido quindi avere paura è una cosa che in genere viene affrontata nel corso dell'opera cioè il protagonista dimostra di essere un bigliacco sotto certi punti di vista e di essere molto legato a dei desideri molto materiali non è un eroe senza macchia e senza paura ma è anche un eroe che lotta contro la propria quadradia un eroe che nonostante questo va a volontare in guerra segue Leonida nella battaglia delle Termopili non farò spoiler diretti su cosa succede all'interno di quell'album perché vi invito assolutamente a leggerlo per chiunque l'abbia letto sa benissimo qual è il momento in cui mi fa lagrimare quel momento in cui la commozione arriva prepotente all'interno della mia vita e ci sono una marea di dettagli all'interno dell'opera che sono veramente belli il momento di commozione finale costruito per me a regola d'arte perché non è il momento Pixar in cui viene introdotto un personaggio che o una sequenza che vuole volutamente farti piangere in modo diretto e talvolta anche crudo ok non che sia la Pixar faccia cose particolarmente violente o altro ma crudo nel senso di non raffinato semplicemente sanno che una persona piange messa di fronte a una determinata situazione e utilizzano quella situazione nel finale 239 più 1 lo humor e il dramma la tragedia sono dosati in maniera tanto sopraffina da avere un crescendo di commozione che avviene all'interno di alcune battute che io non posso dire ma lo dirò anzi facciamo così allerta spoiler lo devo dire perché non dirò il finale completo ok ma dirò la battuta che per me dà inizio a questa slavina ok di commozione che poi termina alla fine c'è questa battuta all'interno di questa sequenza di scena che in realtà ti hai cominciato da prima a avere un pochino di magone ma quella battuta lì secondo me è la ciliegina sulla torta ecco la battuta è questa all'interno di 299 più 1 e viene detto che ai bambini spartani viene regalato un sasso per compleanno da parte dei suoi parenti perché non devono essere viziati perché sono devono essere persone dure e crude e per questo motivo si vede il compleanno del protagonista in cui la mamma gli dà un sasso la nonna gli dà un sasso e poi quando arriva il momento del nonno lui non ha un sasso gli dice non ho avuto tempo di prendere niente la mamma dice ma il bambino ci è rimasto male lui lo viziate troppo con tutti questi sassi e poi se ne va a lanciare i bambini dalla rupe perché è una delle caratteristiche degli anziani di sparta te vi dico questa cosa qui all'inizio ok lo vedi viene detto semplicemente nelle prime fasi quando viene scritta l'infanzia degli spartani del protagonista e alla fine quando il protagonista si ritrova a proteggere il corpo di Leonida i persiani lo attaccano con frecce e sassi lanciando questa silva di frecce e sassi e la frase è quando la prima pietra mi colpisce sorrido perché penso sia il mio nonno qualcosa del genere e ti sei lì che ti arriva questa cosa qui alla fine di tutta la sequenza perché lo humor non sparisce mai ok però diventa mordace in quel frangente lì diventa mordace con lui che arriva il generale nemico e gli dice ah Dio Nanos e lui saluta scusamelo e diventa quindi molto più secco rispetto a come era rappresentato prima prima era doma tutto è quasi no sense stupide portate avanti il protagonista raggiungono l'apice con quelli che portano la pizza per dire e in quel momento invece diventa molto più snapping mi viene in mente il termine cioè diventa molto più incisivo lo humor e si mischia questa commozione che per me alla fine ogni volta mi ritrovo lì a fare questo è R289 più 1 ok una brevissima recensione mi piacerebbe parlare in futuro più nel dettaglio delle varie opere di Ortolani ma questa è la per farvi capire il genere di opere che crea quest'autore il genere crea delle opere in cui viene raccontata una storia appunto in cui si trova una persona inadatta in una particolare situazione in cui si gioca sia sullo humor che fare questa sorta di risata amara no e talvolta ci sono momenti molto commoventi arriviamo quindi a parlare della serie sulla quarantena quando è iniziata la quarantena in Italia prima c'è stata la zona rossa nord che poi si è stesa in tutta Italia poi c'è stata la vera e propria quarantena che tuttora stiamo vivendo molti creatori di contenuti online che prendono la forma di fumettisti di scrittori youtuber streamer su twitch qualsiasi cosa anche creatori su pagine di facebook qualsiasi all'entità la forma della nostra arte del nostro intrattenimento hanno cercato un modo di fare la loro parte durante questa quarantena perché la noia è una delle cose più difficili da gestire durante la quarantena e avere la possibilità di fare qualcosa è diventato molto importante perché se ti annoi il cervello comincia a divagare quando divaga il cervello può arrivare in punti molto oscuri e raggiungere punti oscuri in un periodo in cui ci si sente soli isolati e il pericolo incumbe da tutte le parti non è mai una cosa positiva questo è uno dei motivi per cui a partire da febbraio ho cominciato a fare un video tutti i giorni in live tutti i giorni proprio per cercare di fare nel mio piccolo la mia parte semplicemente per dare quei piccoli dieci minuti di intrattenimento non di grande qualità affinché le persone potessero sentirsi meno sole in questo periodo e Ortolani ha fatto lo stesso Ortolani ha fatto questo con una serie di strisce sulla prima zona rossa poi la quarantena in cui raccontava la sua esperienza ovviamente esagerata in tutte le condizioni di come ha vissuto lui questa quarantena in modo da offrire uno spaccato della società italiana basato ovviamente sull'ironia ma che lasciasse riflettere che potesse mandare un messaggio e il messaggio della serie sulla quarantena in cui vediamo il protagonista che è lo stesso Ortolani che si ritrova a avere come amico lo stesso covid lo stesso virus che prende la forma di questa classica illustrazione del virus se no la palla con tutti gli spuntini e il protagonista non vuole veicolare un messaggio bonista se vogliamo usare questo termine tanto in comune oggi non vuole utilizzare un messaggio tutto andrà bene ragazzi non preoccupatevi oppure non vuole semplicemente condannare determinati comportamenti a cui abbiamo assistito in questo periodo no quello che vuole fare è raccontare la vita di tutti i giorni mostrare le difficoltà che una persona deve affrontare con ironia in modo esagerato ovviamente criticando chiunque criticando lo stesso protagonista ma criticando il comportamento irrazionale delle persone degli organi di potere e in generale permettendo di sorridere ma anche riflettere all'interno della striscia ce ne sono tante perché ovviamente ne ha fatte più di 50 penso a questo punto la quarantena più dura la quarantena più largo sarà il volume una volta finito di ortolani che sicuramente mi comperò ma ci sono alcune che mi hanno colpito molto molto positivamente di tutte le strisce che compongono questa serie sulla quarantena per me la più bella in assoluto è la diciassettesima e questo non vuol dire che le altre siano inferiore non è che si parla di una discesa repentina della qualità dell'opera assolutamente no semplicemente la diciassettesima per me rappresenta appieno la capacità di ortolani nella sua narrazione nel suo storytelling perché mi è rimasta talmente tanto impressa che me la ricordo quotidianamente da quando stiamo vivendo questa quarantena perché è una striscia che ti fa sorridere ma che poi ti lascia un amaro in bocca che non è facile da descrivere perché non è un amaro dettato da una sensazione di ansia o di panico che ti ha lasciato la striscia assolutamente no semplicemente è una sensazione di agrodolce ti viene dato quando ti viene di fronte una verità amara che però fino a quel momento non avevi visto che non volevi vedere ma che una volta che hai visto non puoi più ignorare e per questo motivo tanto vale accettarla e cercare di sorriderci sopra quello che vuole fare ortolani in questa vignetta ve la riporto velocemente è scritto in dialetto però è facilmente comprensibile secondo me e parla praticamente ortolani vuole rappresentare questo picco come una montagna il probabilista vuole raggiungere il picco e quindi comincia a scalare questa montagna seguendo insegnamenti del Tony Tony non so come si legga T O con due punti NI che gli dà dei consigli sulla scalata sulla situazione attuale della quarantena bla 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 e quando arriva in cima a questa scalata quando lui deve scalare effettivamente il picco per raggiungere il picco gli dice quando arrivi in cima attento a non guardare in basso perché potresti sentirti male e ortolani risponde che è bello alto per quel motivo lì perché il picco si trova molto in alto e la risposta è no perché poi c'è tutta la discesa da fare e questa era una verità che nessuno teneva a mente quando parlava del picco all'epoca perché molte persone pensavano appunto che il picco fosse il momento in cui ok abbiamo sconfitto il virus ora è tutta discesa in realtà la discesa che dovrà percorrere il protagonista una volta arrivata al picco della montagna non è semplicemente un percorso lungo che stiamo tuttora affrontando ma è un percorso disseminato di morti e di persone che perderanno i propri cari e per questo motivo affrontare il picco senza tenere di conto del percorso che dovremo fare dopo potrebbe far nascere una falsa speranza che poi viene a infrangersi immediatamente dopo quando ci rendiamo conto che è una battaglia che ancora non abbiamo vinto ma che stiamo ancora combattendo e credo che mi abbia aiutato a me questa particolare vignetta la 17esima ad affrontare la mia quarantena perché devo dirvelo ragazzi io sono una persona che comunque tende a stare in casa non è particolarmente mondana fortunatamente lavoro da casa perché sono scrittore il problema è che anche io comincio a sentire questa quarantena anche io comincio a sentire il bisogno di vedere i miei cari dopo mesi ho dovuto festeggiare io e la mia ragazza avevo dovuto festeggiare il compleanno da soli in casa ed è chiaro che non è niente rispetto alle persone che hanno perso i loro cari però tutto questo secondo me sarebbe stato più pesante se io avessi vissuto questa attesa spasmodica per il picco come qualcosa che sarebbe stata la soluzione di un male che poi non lo è stato effettivamente tuttora viviamo con delle restrizioni enormi tuttora queste restrizioni vengono prolungate di volta in volta le persone sono stanche sono stressate e lo capisco benissimo lo capisco benissimo ma per questo motivo volevo parlare di quest'opera non tanto per fare i miei complimenti a Ortolani per quello che è riuscito a fare nella serie sulla quarantena perché è riuscito a far sorridere migliaia milioni di persone riuscendo però comunque a veicolare quella amarezza che una persona sta vivendo riuscendo a veicolare quella amarezza che tutti noi stiamo provando in questo periodo ma è riuscito anche a dare dei bellissimi insegnamenti all'interno di una striscia comica e secondo me è una cosa magistrale da fare e oltre a questo volevo parlare semplicemente per dirvi di andarlo a seguire non so quanto durerà questa serie spero duri il meno possibile non me ne voglio a Ortolani ma capirà che spero duri il meno possibile però penso possa essere un valido aiuto durante questo periodo che ancora dobbiamo affrontare perché d'altronde nonostante tutto un sorriso non fa mai male può essere anche un sorriso male ma comunque è un sorriso è sì questo è un video un po' diverso dal solito so che è un'analisi piuttosto sommaria però non voglio dirvi le varie strisce ce ne sono diverse che prezzo particolarmente alcune sono più satiriche di altre alcune sono semplicemente strette al cuore alcune sono una risata gustosa altre no diciamo che in generale l'opera non non segue sempre lo stesso filone è in base anche a quello che sente l'autore in quel periodo e si sente si sente che è una specie di diario di guerra però è un diario divertente da leggere come quello di quindi vi consiglio di leggere ortolani vi consiglio di leggere questa storia qui vi consiglio di leggere quella storia lì vi consiglio di leggere un po' tutto di ortolani capirete immediatamente se il suo tipo di umorismo fa per voi sono convinto non posso fare per tutti non è così universale però nel caso non sapete cosa leggere in questo periodo ecco ortolani può essere una varia scelta perché alla fine è quello che ci serve di sapere no che il protagonista è una persona incapace una persona che può essere tutti noi perché in tante cose noi falliamo in tante cose non riusciamo però nonostante questo continua a provarci e così anche noi anche se ci sentiamo particolarmente giù anche se ci sentiamo privati della nostra identità di essere umani con l'incapacità di poter parlare con gli altri anche se sappiamo che la battaglia sarà ancora lunga che non potremo riabbracciare i nostri cari e dovremo tenerci comunque a distanza di sicurezza che non potremo soffiare le candeline sulle torte tutte insieme nonostante tutto questo sapere che c'è persone che hanno morso la polvere come noi ma che continuano a provarci nel bene e nel male può essere solamente una cosa positiva grazie a Ortolani per i sorrisi amari grazie a tutti voi per aver visto questo video ci vediamo domani con un prossimo video e oggi in live non so a che ora e vi ricordo in descrizione ci sono i link ai social e a tutto il resto grazie mille per aver visto questo video buona 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 buona